Non mi prenda quel pazzoide dell'Enigvist, ma niente di meglio da fare che lasciare punti interrogativi verdi per tutta Arkham City. Grazie a tutti. 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 Visti tutti qui dentro? Joker, due facce, maschera nera. Merda, credo di aver visto anche Killer Croc. o che Vain fosse morto e invece indovina un po' è qui in questo cesso di città. non si esce da qui. Non posso restare qua dentro. Devo fuggire. Sono pezzi di Strange in tutta Arkham City. e poi esce di nuovo. Sì. Sì. Sì.